cari amici e carissimi amiche di youtube un caro saluto da vincent lionart lampi del pensiero libero e quotidiano oggi il pavoncello femminiello andrew like al video ciao ragazzi sono sempre qui nel mio baretto che viene tanta gente piccolo questo baretto ma la gente ci viene perché ci so fare perché io faccio come il pavoncello femminiello non proprio come a mimo mercuri ciao grazie che porto il cane così in questo modo ciao il socio ufficiale di freddi mercuri faruk bolsara si no io proprio così no però io invece vado più impettito di mimo mercuri così anche se me la sono spassata tanto con mimo mercuri in passato adesso invece me la spasso con berta filava ballava socava e con la checchia checcona di di sandro luf sandro la checone il checone ce la spassiamo tutti insieme anche nel nostro baretto quanto non ci sono quando non ci sono i clienti ce ce la spassiamo alla grande beatamente oh yeah va bene ci teniamo semplicemente a farvi questo salutino ci vediamo al prossimo video con il pavoncello andrew il femminiello oh mamma mia quanto sono buono e bello alla prossima ciao